buongiorno benvenuti a tutti oggi dal secondo giorno della mostra ieri i nostri giudici che ringrazio di essere venuti in italia a fare il loro sporco mestiere quindi hanno valutato sia la parte dell'esposizione sia le singole piante ha già assegnato i premi e oggi faranno questa spiegazione per giustificare diciamo le loro scelte e i loro premi assegnati ci saranno oltre alle loro coccarde premi nastri quello che sarà ci saranno anche due premi particolari che sono il campione della mostra e lo stand più bello ringrazio la collega che si presta per la traduzione e rinnovo l'invito allo prossimo anno ai giudici sia per le altre nostre manifestazioni perché sono stati gentilissimi affabilissimi ringraziamo come tutta lao di essere venuti in Italia a fare questo lavoro vi lascio le loro spiegazioni e vi seguo abbiamo visionato cinque piante valutando il contenuto delle piante e la presentazione con cui sono state esposte e molto importante è anche la qualità del contenuto delle piante e dopo che abbiamo visionato i cinque stand abbiamo valutato quello che dell'Alao è il migliore grazie quindi riceve il campione della mostra e questo stand riceve la medaglia per la presentazione dello stand migliore in questa valutazione degli stand abbiamo ottenuto in considerazione ovviamente le piante migliori e le medaglie sono state attribuite sulla base della fioritura o della forma naturale delle piante in questi cinque stand abbiamo trovato solo una pflanza dove pensavamo che fosse una medaglia e in questi cinque stand abbiamo individuato una sola pianta che ha meritato la medaglia d'oro e quindi dovremmo andare sull'altro lato per visionarla avevamo due alternative, due possibilità per la medaglia d'oro una riguardava questa ma per la dimensione e la grandezza della pianta c'erano troppi pochi fiori e quando abbiamo visto questa specie è botanica naturale e quindi dopo aver visto questa ci siamo spostati sull'altro lato dello stand e abbiamo trovato in principio è la stessa botanica come da qui ma ovviamente con la grossa di più e quindi abbiamo trovato questa pflanza come la besta pflanza in show quindi la specie è la stessa dell'altro lato ma vista la dimensione della pianta abbiamo scelto di premiare questa quindi questa pianta che ha ricevuto la medaglia d'oro riceve anche il trofeo il giudice ci ha tenuto a specificare che è stato essenzialmente per la dimensione anche a nome del presidente dell'associazione ringraziano per il vostro invito e per la possibilità di partecipare grazie a tutti 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 grazie a tutti